Personalmente, perché? Perché tu hai messo al primo punto nel tuo brano la meritocrazia. Io mi avevo chiesto a meritocrazia che abbiamo apportato avanti, in tutti i settori. E non qualcosa di personalizzazione. Questa è l'ultima occasione che noi abbiamo con il centro di rispettatore. Lasciamo qualcosa veramente nella città. Iniziamo dal corpo di qua, per raccogliere i coglioni. E io sto fermando e mi fussano la motocicletta, perché si devono passare il maestro qui. Noi dobbiamo incominciare dalle piccole cose, da queste cose qua. E mi auguro che c'è da domani, iniziamo dal corpo di qua questa cosa qua. E poi guarda da tutti i paesi. Iniziamo che il paese ai cittadini, ai cittadini, ai primi figli, che pensano che questa cosa non è possibile. Per me che io ti saluto e te ne vai a fare. Non è almeno un consiglio di cosa. Grazie. Buon lavoro. Sindaco, scusi, mi permesso di usare una domanda, che forse potrebbero fare tutti i cittadini? Magari a riscontrare l'emergenza di chi? Come si sta? Allora, l'emergenza di chi? Basta le giornate, sono tutti i giornali di questa mattina, e l'emergenza di chi non è un caso portato comunale, è un caso portato comunale, è un caso portato comunale. Poi abbiamo un grosso problema, di prestare la parte prima. Tutti i siti sono in usi, che rimarranno subito bloccati, subito bloccati. Noi abbiamo avuto la fortuna, che abbiamo avuto l'inizio, che abbiamo avuto il prefecto, andiamo a prestare, a piaggiarli. Noi possiamo ancora prestare, ma non c'è altro prestato, non c'è altro prestato. Per questo caso non è male la produzione quotidiana di Castoria, quindi andiamo, ancora questi comuni, che da mattina, ma ancora oltre alla personale, possiamo venire a prestare 30 o meno prestati di preferenza, se vuole scaricare tutto. Purtroppo, chiamato anche il prefecto, il prefecto è il prefecto. E' un'evoluzione nazionale, chiamato il prefecto del governo, per poter andare fuori le regioni. Se non arriverà questo prefecto, penso che sarà difficile. Anche le state provvede, si dice, ma i pesi sono nati, cinque giorni, perché è nato in provincia, mi sembra che non tenga la cosa. E i due siti che stanno avendo, che si sono calcoli, sono visori in provincia, così sono dei docenti. Ma soprattutto, con una nuova azienda, e con i futuri dirigenti, possiamo cercare di trovare una soluzione locale, che cerchiamo, vagliando, e questo è il prefecto, voi, alla fine della legge. dalla legge. keptando, Cali? Noi! Bene? E questo è il pre корone più d' referenzione nel lumin retorario.